Lunedì 12 dicembre alle ore 20 presso la sala consigliare del comune di Altamura si terrà il terzo appuntamento della rassegna letteraria Magna Grecia Awards in Fest. Protagonista della serata sarà lo scrittore Andrea Scanzi. L'evento rientra nel calendario di iniziative speciali per il ventennale del Magna Grecia Awards, premio dedicato alle eccellenze della cultura, della comunicazione e del sociale, che vedrà il suo gran finale nel Galà del 12 maggio 2017. Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano, presenta la sua nuova opera letteraria edita da Rizzoli, I migliori di noi. Il romanzo è incentrato sulla generazione dei padri, sulle cose che hanno perso e su quelle che hanno salvato, una storia folgorante sull'amicizia e sull'amore. Prossimo appuntamento della rassegna Magna Grecia Awards in Fest sarà il 16 dicembre alle ore 20 presso la sala consigliare del comune di Altamura con la partecipazione di Fabio Salvatore. Lo scrittore, in una serata evento dal titolo Scelto l'amore, compirà un viaggio fra le sue cinque opere, Cancro, Non mi fai paura, La paura non esiste, ti cerco da sempre, a braccia aperta fra le nuvole, il tuo nome è Francesco. Partner solidale che ha curato l'organizzazione di questo appuntamento è l'associazione Noi Siamo Domi. Il Magna Grecia Awards si svolge sotto l'alto patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Puglia del Parlamento Europeo di Puglia Promozione del Teatro Pubblico Pugliese ed è sostenuto e promosso dal comune di Altamura.